Selina non è riuscita a festeggiare il suo compleanno. Quelle gravi ferite riportate nel pauroso tamponamento avvenuto lungo la superstrada Fano Grosseto non le hanno lasciato scampo. Dopo tre giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Proprio oggi, 17 novembre, Selli avrebbe compiuto 22 anni. Mamma Roberta e papà Matteo hanno scelto di darle domani l'estremo saluto. I funerali verranno celebrati alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Apollinare a Lucrezia. Ieri intanto è stata effettuata l'autopsia sul corpo della giovane. L'esame autoptico si è svolto nel reparto di medicina legale dell'ospedale regionale Torretti di Ancona dove Selina era stata trasportata d'urgenza in eleambulanza dopo il tragico incidente. La sua auto era ferma per un guasto quando era stata tamponata da un'altra vettura guidata da un 31enne di Monte Felcino che stava sopraggiungendo dalla stessa direzione di marcia. Sono certa che in paradiso a modo tuo festeggerai, ha scritto Xenia sul profilo Facebook della ragazza, che in questa settimana è stato inondato di messaggi, non solo per darle forza nei giorni in cui era ricoverata in gravissime condizioni, ma anche per dimostrare vicinanza alla famiglia in quei momenti difficili, strazianti, ma allo stesso tempo pieni di speranza. Una speranza svanita purtroppo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Gli amici di Selli hanno voluto ricordarla, liberando in cielo una lanterna volante alla quale hanno agganciato dei bigliettini di carta con suscritti dei pensieri, per farli arrivare così in alto fino a raggiungere Selli, un angelo che non è più accanto a loro, ma che di certo rimarrà per sempre nei loro cuori.